Questo è l'universo. Quanti mondi. Vi saranno degli esseri viventi sopra di esso. Noi lo ignoriamo. Noi conosciamo soltanto la nostra terra e sappiamo che è abitata. E non soltanto da me e da voi, ma da molti milioni di cinesi, negri, americani, russi, napoletani. Ce n'è di gente al mondo, anche troppo. E questa sensazione di essere in troppi si ha soprattutto nelle grandi città. Il prossimo è ingombrante, perché tutti desiderano le stesse cose che siamo veramente tanti al mondo, ma con un po' di buona volontà c'è posto per tutti. Per i cinesi, per i negri, per gli americani, i napoletani e persino per i marziani. Grazie a tutti.